Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Baldarno e Firenze Sud. Sempre verso Bologna sulla panoramica fino alle 15, tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico-Bacchieraia e Aglio e tra Aglio e Ronco-Bilaccio. Sulla FIPIL in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Scandici e Firenze-Scandici. Per i treni, per un guasto agli impianti di circolazione tra Rosignano e Cecina, i treni sulla linea Pisa-Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per Danni a un passaggio a livello ad Asciano, i treni sulla linea Siena-Chiusi potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!